Il mondo l'ho guardato da qui e anch'io, da una finestra Liberty, dal balcone coi decori sfatti, dal salso e dalla bora, con la paura che sotto qualche ragazzo di scuola venga ferito. Anche questo un dono a farmi contemporanea. Chiede la vita intera e luminosa, come la visitazione delle balenotte reincinte, come accaduto alla barca dei biologi marini, con i colli emersi in ricci di schiuma e le lunghe ciglia sugli occhi abbaccinati dai fari di prua.